Se si desidera ripristinare un backup di un sito in ePassan Manager, iniziare facendo clic sul pulsante Strumenti. Poi cliccate sull'opzione Backup ripristino dati in alto. A questo punto selezionare e aprire il file di backup salvato. Quindi fare clic sul pulsante Ripristina. Infine, fare clic su OK per confermare che si desidera ripristinare il sito selezionato. A questo punto si tornerà al menu principale del sito ripristinato.